Una strada che congiunge viale Elvezia con viale Cesare Battisti. All'ingresso della strada non è presente alcun cartello di senso unico alternato. All'ingresso della strada. Via Casanova è la strada d'accesso del centro sportivo nonché scuola privata Rondò dei Pini. Come abbiamo visto nelle immagini precedenti è pressoché impossibile ed è anche pericoloso passare con due macchine in senso contrario. Come vedete all'ingresso di questa curva non è ubicato nessuno specchio che possa segnalare la presenza di un'eventuale vettura da dietro la curva.